Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi iniziamo la settimana parlando di Vogue e della sua nuova Trofeo 525 ACX Scrambler, una moto che Vogue ha presentato, tra virgolette, durante l'ECMA 2022. Adesso la moto è arrivata nei concessionari e conosciamo tutte le caratteristiche, compreso anche il prezzo e attualmente questa moto è anche in promozione e costa tipo un 500 euro in meno rispetto al normale prezzo di listino. La moto è interessante, quindi comunque ve ne parlo, no? Vogue, vi ricordo essere marchio premium della Launching, parliamo di un'azienda cinese, però fa parte di quelle aziende cinesi abbastanza conosciute, no? Per esempio, non lo so, un'altra può essere la CFMoto oppure la QJ Motor. Per quanto riguarda la moto di oggi, di fatto questa sarebbe la versione Scrambler, leggermente più costosa della 500 AC, già presente in gamma Vogue, però questa moto di diverso ha il motore, non è più il vecchio, tra virgolette, motore 471 di cilindrata, montato sulla 500 AC, ma abbiamo un motore nuovo che è un 494 di cilindrata. Oltretutto la versione Scrambler di oggi monta i 19-17 tubeless come cerchi, mentre la 500 AC monta i 17 in quanto è una moto naked, classica stradale. Qui di fianco vi lascio qualche immagine, questa nuova Trofeo 525 AC X Scrambler, rispetto alla versione normale della 500 AC, quindi è più carina, cioè l'estetica è abbastanza simile, no? Il nome AC sta a indicare, la sigla AC sta a indicare Advance Classic, fondamentalmente è una moto che unisce lo stile classico allo stile moderno, per essere comunque la moto prodotta dalla Cina, prodotta in Cina, una moto cinese, insomma, devo dire essere abbastanza carina, abbastanza apprezzabile. Mi ricorda un po', se vogliamo, la Leoncino 800, ci sta, insomma, come estetica. Soprattutto hanno capito che devono farle moto con dei colori, cioè mi piace abbastanza contrasto con i colori grigi, scuri, neri e il giallo, no? Invece sulla 500 AC la colorazione è tutta grigia e onestamente mi piace poco. Invece questa livrea, devo dire, è abbastanza carina, il nome di questa colorazione, se ricordo bene, è tipo Carbon Black. Comunque disponibile la moto soltanto in questa livrea che vedete, mentre la 500 AC ci sono due differenti colorazioni. Qua soltanto una, questa qua, che però, devo dire, è abbastanza carina. Nel complesso la moto non è male, abbiamo comunque un faro anteriore a LED, c'è anche una presa USB per ricaricare comunque il telefono, c'è anche la sua bella strumentazione TFT da 7 pollici, anche con il modo Bluetooth e anche con sensore pressione pneumatici, quindi una moto abbastanza tecnologica, che è una parte posteriore, insomma, una moto che devo dire essere abbastanza costruita bene e per il motore comunque non è male come cilindrata. Per quanto riguarda le caratteristiche, allora la moto monta questo motore nuovo, bicilindrico, cilindrata 4,94 con una potenza di 47 cavalli circa, a 8.500 giri, mentre la coppia 44.5 Nm a 7.000 giri. La moto pesa secco 185 kg, che non sono poi neanche tantissimo, se vogliamo dirla tutta. Altezza sella 820 mm, estrebatoio effettivamente bello capiente da ben 19 litri, quindi potenza coppia, è una classica moto, diciamo, patente a 2. Ciclistica, il telaio è in acciaio, sospensioni con la forcella a stile rovesciati da 41 mm, un impianto frenante fermato in isse in doppio disco all'anteriore, 298 mm, posteriore singolo disco 240 mm, gommata per l'appunto con cerchi tubeless, 19-17, quindi la moto, se non la scramble, può andare anche a fare un po' di fuoristrada, anche se comunque non nasce per fare fuoristrada, 110 all'anteriore, a posteriore 150, ABS presente a doppio canale. La strumentazione per l'appunto è un bello schermo TFT da 7 pollici con anche il modulo Bluetooth. Ora mi fa ridere questa cosa, mi fa ridere che in Italia arrivi, insomma, un po' tutte le case alla fine, no? Quest'anno, ma comunque anche la Voge se ne esca con strumentazioni TFT belle grosse, belle fatte bene, con Bluetooth e Benelli non è capace ancora di portare in Italia la nuova 502 che c'è in Cina, dove lì hanno lo schermo TFT, noi abbiamo sempre la strumentazione quella vecchia, tipo di 20 anni fa e la gente ancora compra, compra questa TRK 502. Io veramente non capisco, cioè non c'entra niente con la Voge, per carità, ma non capisco veramente tutte queste vendite della TRK 502, non riesco veramente a distanza di tempo a capacitarmi ancora di questa cosa. Chiudiamo questa parentesi perché non c'entra nulla. Comunque sia, dicevo, sì, schermo TFT, modo Bluetooth, sensore, pressioni pneumatici e anche c'è la presa 12 volte per ricaricare il telefono, no? Quanto costa la moto? Dunque, la moto, dicevo, è disponibile soltanto in questa livrea che avete visto. Il prezzo normale è 6790 euro, 6.800, ma attualmente il prezzo di lancio è 6.290 euro, quindi circa 500 euro in meno rispetto al prezzo normale. Quindi, se vi interessa questa moto, attualmente risparmiate 500 euro e sicuramente non è male, quei 500 li mettete in qualcos'altro, li mettete magari in un casco oppure in un casco medio-basso livello, più tuta, magari la giacca, insomma, 500 euro. Ve lo consiglio di spendere nel vestiario e questo è quanto. La moto può essere interessante oppure no? Se vi interessa una Scramble può essere interessante. Potrebbe essere vista forse come concorrente della nuova Honda con la sua CL500, anche se di quest'ultima, se non sbaglio, non conosciamo ancora il prezzo, ma devo controllare perché è un po' che non guardo se Honda ha aggiornato il prezzo di questa nuova Scramble 500. Essendo una Scramble può essere vista come una versione più economica della Leoncino 800 Trail, però l'800 monta un motore più grosso, a 754, in questo caso un motore più piccolo. La Leoncino 800 costa anche di più, questa costa abbastanza giusto. 6.300 a prezzo di lancio, non è male per una moto patente a due, insomma, Alla fine discorso affidabilità, insomma, se parliamo di Loncin, quindi se parliamo della Voj, perché Voj è il marco primo della Loncin, Loncin produce motori per la BMW, quindi comunque sono case affidabili, la QJ Motor, della QJ Group, quelli che hanno preso anche la Benelli, alla fine tutte le aziende cinesi, più o meno delle quali vi parlo sul canale, sono tutte affidabili, quindi da quel punto di vista non dovreste avere problemi, anche CFMoto, quindi è una moto costruita abbastanza bene, patenti a due, sembra essere facile, abbastanza stilosa, carina come estetica, e quindi il prezzo può essere interessante per qualcuno che non vuole qualcosa di troppo impegnativo, non vuole le classiche, non lo so, le classiche giapponesi, o altre moto, insomma, KTM, segmento naked, ma vuole qualcosa magari di un po' diverso, ci può stare, insomma, prezzo abbastanza allettante. ovviamente, sfatiamo il mito del fatto che le cinesi, vanno a costare molto di meno rispetto alle concorrenti, cioè, in genere, sempre comunque le cinesi, vanno sempre a costare leggermente di meno, rispetto alle controparti giapponesi, no? Cioè, non c'è mai un super risparmio, e quindi in tanti dicono alla fine se costa poco di meno, piuttosto prendo una giapponese, e questo qua è un po' il difetto, secondo me, delle attuali moto cinesi. Cioè, è vero che comunque sia, hanno la tecnologia, hanno i motori, hanno le ciclistiche, però è ovvio che se tu arrivi con un brand abbastanza nuovo, recente, è ovvio che se fai un confronto, uno dice spendo un po' di più, e compro qualcosa, magari di un brand più conosciuto, no? Quindi il difetto delle cinesi attualmente, che si parli della voce, CFMoto, QG Motor, è sempre quello, cioè, costando poco di meno rispetto alle altre concorrenti, giapponesi, austriaco, italiane, alla fine la gente piuttosto va su altre moto, per questo che, tendenzialmente le incontriamo poco in classifica, no? Per esempio le moto della voce, perché sennò sarebbero anche interessanti. Da questo video è tutto, nei commenti fatemi sapere, magari può essere interessante, se possedete una moto del marchio Voce, come vi trovate, se avete problemi, se va tutto bene, assistenza, affidabilità, insomma, è un commento che può essere utile sia a me, perché comunque non ho mai comprato Voce, e non ho mai provato ancora, fino ad adesso, moto del marchio Voce, sia perché magari vuole comprarsi la moto magari di oggi, e vuole magari avere qualche feedback dai possessori. Da questo video è tutto, io saluto come sempre Erika, l'avete vista ieri sul canale, vi ho parlato della nuova 700, tenere della Yamaha, la versione Extreme Edition, torneremo insieme con Erika poi, nel fine settimana, nel weekend, questa volta però saremo a casa sua, quindi ci saranno Lana e Asia, che sono i suoi due bellissimi cani. Dicevo, da questo video è tutto, chiedete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi, una scala di YouTube, con lo Instagram, in e-backer ufficiale, noi ci vediamo come sempre, in un prossimo video. Ciao ragazzi! 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 Grazie.